bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video di minecraft io sono maullo941 e oggi siamo arrivati nell'episodio numero 5 se non sbaglio si, l'episodio numero 5 signori allora prima di partire dal video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i seguimenti e per il supporto che date a questa serie vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate come maullo941 sia su instagram che su facebook dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live sia su questa piattaforma che sull'altra vi ricordo di fare un salto anche sul secondo canale mi trovate come maullo941bis in cui portiamo altre serie e altri videogiochi alternati a questo e come ultima cosa guardate i link in descrizione che trovate oltre alle operazioni che potete fare col canale ovvero abbonamenti, donazioni e cose varie e i link dei social trovate anche i link dei canali che si sono abbonati al mio canale quindi se volete fare un salto anche da loro e vedere i contenuti a me fa piacere detto questo signori non perdiamo altro tempo e partiamo con il video allora sta calando la notte signori quindi cosa saggia e buona andiamo a dormire subito così resettiamo la situazione e vediamo un attimino di procedere allora piccole informazioni prima di partire con quello che faremo oggi informazione numero 1 ho seguito il consiglio di X-Man e ho messo delle trappole diciamo delle botole attorno a queste casse fatemi sapere se la cosa vi piace signori eventualmente potremmo vedere anche di trovare dell'altro legno per ora io ho solamente questo non ho il legno di quercia scuro che forse ci starebbero meglio però ditemi se vi piacciono potremmo mettere attorno a ogni cassa queste botole così in modo tale da mascherare un po' con la situazione in modo tale anche da non essere facilmente apribili dall'esterno potremmo un attimo valutare questo seconda cosa Foxina nel video precedente mi ha suggerito di non prendere i diamanti che avevamo trovato giù in miniera ma lasciarli lì e aspettare un piccone con fortuna signori effettivamente i diamanti che abbiamo trovato qui sotto in miniera sono due quindi anche quando li prendo non posso farmi nemmeno un piccone per poter andare a prendere l'ossidiana quindi essendo solamente due diamantozzi li lasciamo qua sono al ricordo di questa dell'inizio della serie signori i primi diamanti trovati nella serie poi altra cosa ho iniziato a sistemare qui la nostra bellissima miniera che svolgerà così sarà dritta di due blocchi e poi ogni tot si apriranno i varchi laterali casomai off camera signori inizierò un attimino a scavare per cercare di trovare dei diamanti in modo tale che nel prossimo episodio costruiamo un piccone di diamanti e iniziamo a recuperare anche l'ossidiana l'unica cosa voglio fare un poco meglio questa entrata di qua voglio fare un poco meglio questa entrata di qua ora vediamo un attimino come la possiamo giostrare per cercare di fare una cosa più carina più carina allora signori mi inizio a organizzare con tutto il materiale che mi occorre per questo episodio intanto insieme a risalire perché oggi facciamo un attimo di pausa e sistemiamo un attimino il mondo per vedere di migliorare qualcosina per renderlo un poco più simpatico un poco più simpatico allora piano piano svolgiamo tutto allora signori per prima cosa ho visto che là sotto c'è dell'argilla che l'andiamo a recuperare e l'andiamo a mettere a cuocere così mentre questa cuoce noi possiamo fare altro se riusciamo a recuperarla perfetto questa avesse dell'argilla che ci staremo 8000 anni per recuperare un blocco praticamente però perderemo già un sacco di vita subito così per due blocchi ce la faccio? ce la faccio? sì ok non sono morto questa c'è tanta roba torniamo giù velocemente e continuiamo a zappare l'argilla che mi serve per sistemare le entrate della nostra miniera signori così facciamo qualcosa di più carino dai 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 rompi 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 e torna su rompi e torna su ok siamo riusciti ad organizzarci bene siamo riusciti ad organizzarci bene torna giù torna giù e recuperiamo ancora un altro po' di argilla io non ricordo quanto ne serve per fare dei mattoni però recuperiamo un bel po' e vediamo intanto cosa riusciamo a fare con questa ok l'argilla è recuperata signori mettiamola a cuocere così perfetto e questa sta cuocendo poi ho sistemato un attimino tutti i blocchi che abbiamo recuperiamo il legno recuperiamo sia il legno questo questi però li mettiamo da parte li mettiamo qua che il legno di acacia perfetto trasformiamo sia questo così perfetto lo mettiamo qua sia tutto il legno di acacia lo trasformiamo tutto eccessivo però va bene con il legno di acacia ci andiamo a fare dei gradini non so effettivamente quanti me ne possono servire forse 40 sono assai ma forse 28 dovrebbero bastare 28 forse dovrebbero bastare cosa andiamo a fare signori con questi gradini con questi gradini andiamo a sistemare questa zona di qua il ponticello signori che effettivamente così è veramente brutto così è veramente brutto allora leviamo tutti questi mezzi blocchi che stanno veramente male signori ok che non fanno tra l'altro erano messi pure in posizione in cui i mostri potevano spawnare senza problemi quindi leviamo tutti questi mezzi blocchi che poi andremo a recuperare con calma ci facciamo un bel tuffo a mare li recupereremo con calma li leviamo tutti quanti ce n'è ancora? porca miseria dai dai leviamoli tutti dovremmo essere arrivati perfetto e andiamo a mettere i blocchi normali andiamo a mettere i blocchi normali allora pulsantino giusto se no caschiamo a mare male subito e piazza dai così dai così così abbiamo i blocchi normali che stanno più carini anche perché poi dovremmo fare un piede a sto ponticello non può stare in aria a volare il ponte ok effettivamente tipo tipo qua possiamo fare che ne so a questa altezza a questa altezza possiamo fare il piede del ponte che si vede che scende dai così dove sta lì metterlo lì a posto di aprire un altro po' di ossigeno e poi un altro magari lo facciamo qui così così non scordiamo neanche troppo legno e siamo no no facciamolo lì va bene la tartaruga che si mette in mezzo rottura di scatole abbiamo sbagliato signori va bene va bene siamo degli stupidi perfetto piccolo errore tecnico-tattico prendiamo un attimo qua la mazza andiamo a recuperare il legno che abbiamo rotto in maniera sbagliata abbiamo attaccato lì in maniera sbagliata vediamo se ci riusciamo prima di morire e le gambe del ponticello le abbiamo fatte signori con i gradini invece di un altro colore andremo ad allargare il nostro ponticello così in modo tale che facciamo il ponte di due colori e lo facciamo un pochino movimentato signori sennò sennò viene tutto uguale non mi piace per nulla completo questa parte del ponte mettendo tutti questi gradini di lato e ci vediamo dopo per l'ultimo passaggio allora signori siamo riusciti a fare a finire quel lato il laterale del ponte adesso sto facendo tutte le cancellette diciamo questi di qua che sicuramente questi 29 non mi basteranno mai nella vita perché dico il ponte deve essere in sicurezza quindi metteremo le sponde così laterali in modo tale che il ponticello si lo so perfettamente che avevo detto che questa serie doveva essere più meno 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 complicata beh invece mi sto perdendo praticamente a fa 70 sto sistemando praticamente la la tutte le varie particolarità della serie però signori così possiamo mettere due belle torce qua e stiamo un attimino in sicurezza un'altra la mettiamo qui che non sarà mai al centro per forza andiamo il sole sta calando andiamo un attimino a fare qualche altra qualche altro di questi no 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 dobbiamo metterli di lato 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 quando è questo fa? vabbè facciamo ne 5 die ne abbiamo 5 stichettini facciamo ne 5 perfetto dormiamo prima che spawna l'impossibile ancora non siamo in grado di difenderci per come vorremmo quindi ne abbiamo 15 che secondo me non mi basteranno mai nemmeno stavolta va bene signori completo off camera questo discorso di questo morettino laterale perché non mi basteranno mai vediamo vediamo se siamo fortunati vediamo se siamo fortunati no ma porca mio 1 2 3 4 me ne mancano 4 vabbè vabbè ok signori abbiamo finito il ponticello carino dai almeno almeno è più sicuro di quello di prima che era un un cosa terribile almeno così siamo più tranquilli eppure è bell'illuminato non dovrebbe comparire niente di particolare altra cosa che voglio fare signori fatemi portare questi alberi che abbiamo raccolto gironzolando per il mondo altra cosa che dobbiamo andare a fare noi siamo sperduti nell'oceano signori quindi non una cosa che mi piacerebbe fare sono questi i campfire ovvero i fuochi di segnalazione questi di qua non li possiamo fare perché? perché ci manca il legno grezzo ok ci manca il legno grezzo ne abbiamo legno grezzo no è andata così nel prossimo video ve lo chiederò recuperiamo i campfire ne possiamo fare tre sì perfetto ne possiamo fare tre e li andiamo a posizionare signori uno qua vediamo questa doccia ne mettiamo uno qui che mi piace che ci sta sperando che gli alberi non mi prendano fuoco uno lo mettiamo qui signori leviamo questa doccia di qua e lo mettiamo qua segnalazione e uno lo mettiamo proprio qui dai così a posto così sono i nostri tre fuochi di segnalazione così anche da lontano dovremmo riuscire a vedere un giorno se quando avremo poi il la lana magari ce la mettiamo sotto questo però mi sa che è troppo vicino aspettate un attimo questo no l'ho perso così ho ottenuto la carbonella no ma porca miseria vabbè dopo lo rifacciamo signori lo mettiamo un po' più qua perché era troppo vicino alla capanna avevo paura sinceramente avevo paura e fatto qua perfetto abbiamo fatto i mattoni andiamo a fare i mattoni quelli così si fanno così si me ne servono 8 quanti ne riesco a farne 10 me ne servono 8 signori me ne servono 8 gli altri mattoni ci riteniamo e andiamo a fare l'ultima cosa di questo video che voglio andare a fare è prendere la diorite ora poi andremo in miniera a cercarne dell'altra a cercarne dell'altra allora lo facciamo con calma e andare a selezionare questa zona di qua della miniera ovvero leviamo questo mettiamo uno leviamo questo mettiamo questo leviamo questo mettiamo questo leviamo questo e mettiamo questo e poi negli altri 4 punti andiamo a mettere la diorite bianca signori in modo tale da spezzare ok questa è la zona in cui c'è il pozzo signori la miniera ecco la miniera di qua si scende e di qua invece il problema è che se io rompo questo perdo la scala non è vero però se lo rompo da qua dovrei recuperare la scala perfetto ok quindi mettiamo questo qui con la scaletta la rimettiamo ok leviamo quello di lì e mettiamo questo qui questo qui e questo qui perfetto signori allora devo andare a recuperare un altro po' diorite che l'ho persa e poi concludiamo questo video allora signori siamo qui in miniera abbiamo trovato subito la diorite così a portata di mano quindi recupero i miei bellissimi quattro blocchi che mi servivano questi però mi devo più a tutti e quattro ok facciamo così abbondas abbondatis abbondantum e per questo video anche perché sta calando nuovamente la notte penso che per questo video ci possiamo fermare qui nel prossimo ripeto a off camera andrò a cercare i diamanti e quanto meno ce ne servono almeno tre signori ci servono almeno tre i diamanti e vediamo di poter fare un piccone e iniziare a cercare anche l'ossidiana l'ossidiana ci servirebbero anche le mucche in tutto questo in tutto questo ci servirebbero anche le mucche sì perché abbiamo pochissimo cibo se non poco di grano e non è non è la cosa più bella del mondo ok perfetto e questo abbiamo sistemato perfetto signori veloci veloci prima che spona il mondo qui guardate che bellissimo il nostro ponticello il nostro game fire signori i nostri fuochi di segnalazione che ci segnalano dove è la casa detto che signori a dormire veloci io vi ringrazio vi ringrazio per i like per i commenti per i suggeriti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao ciao